Il Brindisi non si ferma, supera per 3 a 1 il Nardò e conquista la terza vittoria consecutiva in altre tante gare disputate e conserva la vetta solitaria della classifica. Per il Nardò buona prestazione ma ancora 0 punti in classifica con le numerose assenze che stanno incidendo sull'avvio di stagione della formazione neretina. Parte bene la formazione ospite dopo 4 minuti punizione dalla destra, colpo di testa di Trinchera con la sfera che termina di poco sul fondo. Al primo vero a fondo 3 minuti dopo però il Brindisi a passare in vantaggio, complice un errore di Mildi che non trattiene il pallone Cerone, deve solo depositare in rete. Il Nardò subisce il contraccolpo e il Brindisi prova ad approfittarne, insiste al 22esimo con Boccadamo complice una deviazione e trova anche il raddoppio. Alla mezz'ora però il Nardò riapre le sorti dell'incontro, bravo Potenza dalla sinistra con una serpentina da andare sul fondo e a mettere la sfera al centro per Caputo che trova il gol del 2-1. Passa un solo minuto, lancio per Palazzo che ci prova sotto misura, mandando però sul fondo al 34esimo e ancora Potenza che ci prova con un'azione personale e bravo la Cirignola. Attento alla deviazione, nella ripresa ancora Nardò subito in avanti al quinto minuto, punizione di Scialpi, devia la Cirignola che mantiene il Brindisi in avanti. Al sedicesimo Boccadamo serve con un lungo cross Palazzo che ci prova in sforbiciata, spettacolare ma non inquadra lo specchio della porta avversaria e il tiro del calciatore biancazzurro. Al 21esimo ci prova ancora Palazzo, questa volta è la traversa e la linea della porta avversaria a Negagli, la gioia del gol che però arriverà al 38esimo con un discusso calcio di rigore concesso dal direttore di gara in favore della formazione brindisina dal dischetto. Proprio palazzo non sbaglia e sigla il 3 a 1 definitivo con il quale il Brindisi conserva il primato e conquista altri tre punti.